Ha creato allarme tra gli ambientalisti e non solo il cantiere a Fossacesia Marina di uno stabilimento balneare vicinissimo al mare. Il coordinamento delle associazioni Tuviva ha presentato esposti alla procura, alla finanza e ieri il cantiere è stato sospeso in seguito ad una ordinanza del SUAP sollecitata all'ufficio tecnico comunale anche dallo stesso sindaco di Fossacesia pur non avendone la competenza. Federico Di Giuseppe Antonio, il sindaco ha fatto chiarezza in una conferenza stampa respingendo gli attacchi alla sua persona e dall'amministrazione. Abbiamo sempre tutelato l'ambiente. Leggo non frequentemente i social, ho visto attacchi anche diffamatori, ma mettiamolo da parte e verificheremo successivamente. Questa mattina però leggendo Twitter, che leggo poco frequentemente, c'era una frase detta in questi giorni da Papa Francesco che dice a tutti, tutti siamo chiamati ad essere testimoni della verità. Cosa è successo? SUAP, Servizio Unico delle Attività Produttive, rilascia una concessione balneare nel rispetto delle regole. Quanto? Nel 2019. Una concessione ottenuta da circa dieci anni, quando la spiaggia era più larga. Cosa è successo? Che praticamente ci sono state delle segnalazioni, sulla base delle quali io ho chiesto all'ufficio tecnico di invitare il SUAP, il servizio che si occupa delle attività produttive, uno sportello che è presso il patto territoriale, a sospendere. Ma invitare a sospendere, perché voglio dire a tutti, non è mia competenza non revocare o revocare, autorizzare e concedere. Il Consiglio Comunale fa un piano spiaggia, fatto nel 2004, confermato dalle amministrazioni successive. Ora che c'è, bisogna verificare esattamente, sulla base delle segnalazioni, se c'è il rispetto delle regole. Verificheremo, però, chi parla, chi parla, lo voglio ricordare a me stesso e a chi ci ascolta, sono stato sempre un difensore del paesaggio. Verificheremo l'esito delle indagini che sono in corso e saranno gli uffici tecnici a dover decidere. Non è il sindaco, non è l'amministrazione comunale. Quanto è inciso il fenomeno erosione su questa situazione? Incide tantissimo. Ho affidato uno studio a due geologi importanti e di qualità. Mi aspetto che la regione Abruzzo finalmente dia quel contributo per difendere la costa da un'erosione che dura da molti anni.